ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata oggi facciamo una comparazione tra il nostro seiko turtle nella sua versione king quella per intenderci con il vetro zafiro e con la ghiera in ceramica e il nostro seiko villard questo è naturalmente l'ultimo orologio che di cui sono entrato in di cui sono entrato in possesso è un regalo di mio fratello insomma ultimamente l'avete visto spesso allora in questo video vi dirò i motivi per cui secondo me il villard è superiore rispetto rispetto al seiko turtle che naturalmente come tutti sapete è un ottimo orologio è un orologio che naturalmente per il prezzo che si può acquistare da veramente tantissimo questo orologio insomma che si prende con circa 400 500 euro insomma si aggira intorno a quella a quelle cifre lì e ti dà e ti dà veramente tanto in termini sicuramente di iconicità quindi secondo quello che sono la storia del suo del suo design ma anche come contenuti tecnici del dell'orologio stesso partiamo subito a vedere quelle che sono le caratteristiche del design di questi due di questi due orologi nella storia di seiko prima arriva il dei due prima dei due arriva al 61 05 che sarebbe poi il villard lo potete vedere insomma in questo momento qui anche se la luce non è diciamo così non è fantastica ecco questo che vedete in alto a sinistra è il il nostro è il nostro villard questo è un orologio che esce proprio nel 1968 ed è il primo ed è assolutamente il primo orologio di grande successo planetario nel senso che questo orologio che veramente riesce a entrare nel cuore di tantissime persone delle persone che fanno attività come pescatori all'esterno pescatori cacciatori ma anche persone che hanno utilizzato questo orologio per delle grandi spedizioni al pollo nord e ce ne sono ecco è anche ricordato proprio con per esempio un grande avventuriero che se non vado errato si chiama uemura infatti questo orologio è anche chiamato uemura un altro nome insomma che seico gli ha dato proprio per ricordare insomma le gesta di questo grande avventuriero che ha fatto insomma delle spedizioni anche al polo nord ma anche in altezza sui sui monti quindi un orologio che è stato legato ecco a tante persone che non solo hanno fatto lo hanno utilizzato come sub ma anche ecco diciamo così per attività all'aperto perché era un orologio che aveva 150 metri di impermeabilità un orologio molto robusto e che anche si poteva acquistare a un prezzo insomma accessibile ecco diciamo così accessibile comunque era un orologio sempre abbastanza costoso perché era comunque un buon prodotto un prodotto tecnico che permetteva di fare diciamo molto ricordiamoci che siamo nel 1968 ma allo stesso tempo insomma un orologio anche che a cui a cui si poteva si poteva accedere ecco questo vintage questo del 1968 è ripreso dal dal nuovo villard che sarebbe questo qua però le dimensioni sono un pochino sono un pochino cambiate questo credo che era addirittura 44 45 mm questo qua è più piccolino tipo 42 mm poi bisogna vedere dove uno lo misura comunque c'ha delle c'ha delle misure sicuramente più contenute rispetto al suo al suo predecessore questo insomma lo rende anche sicuramente più più portabile è chiaro che la la conformazione della cassa stessa viene però un pochino più ridimensionata come potete vedere insomma questa qua era un questo è considerato il vero e proprio primo tartarugone proprio perché c'aveva questa questa forma no così accentuata che con il cinturino insomma dava ecco questa era molto evidente insomma ecco questo questa fisionomia che con molto sinuosa del dell'orologio quindi era molto anche riconoscibile il nuovo è un po meno ecco riconoscibile anche se insomma anche se anche oggi si possono sicuramente riconoscere queste quelle che sono insomma quel quel particolare quel particolare design mentre invece il turtle che conosciamo noi questo che poi è stato reinterpretato credo nel 2017 deriva dal 6306 che era destinato al mercato giapponese o 6309 ecco come potete vedere questo è un orologio che esce nel 1976 quindi siamo insomma quasi dieci anni dopo otto anni otto anni dopo il 6105 e anche questo è un orologio che riscuoterà grande grande successo quindi abbiamo due orologi sicuramente molto iconici guardate qua come è stato ripreso ecco il design del 6309 nel nuovo nella nella nuova reinterpretazione del 2017 e per cui insomma in tutte ora levo tolgo questo il libro appunto della della seico per appunto per questi richiami e andiamo insomma a vedere ecco andiamo a vedere più nello specifico questi due più da vicino anche questi due orologi allora per quanto riguarda ok quelle che sono le caratteristiche tecniche della la differenza tra i due la differenza soprattutto riguarda il movimento è lo stesso movimento però questo movimento il 6r il 6r 35 ha 70 ore di riserva di carica c'ha delle componenti che sono più all'avanguardia insomma rispetto al 4r 35 quindi qua abbiamo un movimento che deriva di fatto dal 6r 15 perché è un downgrade del 6r 15 che è il predecessore del nostro del nostro 6r 35 che aveva 50 ore di riserva di carica rimane pur tuttavia un calibro molto affidabile un calibro insomma di cui si può diciamo così si può ci si può aver si può aver fiducia ecco detto questo qua abbiamo in tutti e due i casi abbiamo un abbiamo un vetro zaffiro in questo caso qui abbiamo la lente magnificatrice che a me che a me piace molto in quest'altro caso abbiamo un anche qui un vetro zaffiro che ha ecco questa questa lavorazione al al bordo ai bordi come potete vedere che dovrebbe richiamare il il vintage però qua siamo presenza appunto di vetro di vetro zaffiro poi abbiamo un inserto iera che in alluminio credo che sia trattato mentre invece qua abbiamo una ceramica anche lì la ceramica a me piace piace molto poi qua abbiamo un quadrante che è un pochino particolare insomma a quadrettoni mentre qua abbiamo un nero un nero opaco poi naturalmente ci sono varie varie possibilità sia per l'uno sia sia per l'altro quindi queste sono le differenze diciamo così tecniche dell'orologio dopodiché siamo tutte e due sono tutte e due iso certificati iso 200 metri di impermeabilità non diciamo non cambia non cambia altro allora vi dirò il motivo per cui a me piace di più il il villard rispetto al seico al seico turtle allora alcuni di voi potrebbero dire che è per il motivo delle delle rifiniture ma possiamo vedere diciamo così che come ecco come rifiniture della della cassa non è che poi ci sia questa grandissima differenza diciamo fra tra i due sono tutte e due realizzati diciamo così in modo in modo spettacolare insomma in modo molto molto buono tutti e due certo la cassa diciamo così la questa è una cassa molto più sinuosa come potete vedere quella del villard e quindi diciamo così già questo mi piace mi piace di più poi abbiamo un abbiamo una ghiera che è molto più precisa guardate qua qua abbiamo una ghiera che è molto più precisa rispetto a quella a quella del turtle guardate qua che precisione che c'è questa mentre invece il turtle che ha una buonissima ghiera ha sicuramente più gioco rispetto rispetto all'altro però insomma è sempre comunque sia una una ghiera che si utilizza che si utilizza che si utilizza molto bene però sicuramente qua c'è una diciamo così un'attenzione al dettaglio superiore dopodiché abbiamo indici applicati in tutti e due in tutti e due i casi quindi insomma siamo a ottimi ottimi livelli in tutte e due in tutti e due i casi la ghiera è molto bella direi quindi forse anche migliore del la ghiera di per sé guardate quella del king è veramente bella veramente bella anche l'inserto ghiera è veramente bello con questo dot quindi forse la ghiera devo dire col fatto che c'ha la ceramica col fatto che è probabilmente superiore a parte l'utilizzo ecco diciamo così del del villard però il villard sicuramente richiama insomma il ancor di più il vintage ora detto questo perché preferisco nonostante appunto quello che vi ho detto no che non ci siano poi grossi diciamo così delle delle differenze che giustificano il di fatto non è giustificato il non è giustificato il questa differenza no di di prezzo perché uno costa 400 euro quest'altro costa mille per cui più del doppio allora vi dico qual è la differenza che mi fa apprezzare molto di più il villard rispetto al al tartal allora è il bracciale innanzitutto c'è da dire che qui c'è un passaggio di 22 mentre qua 20 allora secondo me il passaggio da 20 è più bello perché ne esalta il la fisionomia della cassa quindi è qualcosa diciamo così che secondo me è molto più rifinito a 20 a 20 mm e non a 22 mm come il tartal e poi utilizzando diciamo così il bracciale come lo utilizzo io qua abbiamo sul abbiamo sul villard un bracciale che è sicuramente superiore guardate qua com'è tutto satinato guardate qua com'è rifinito e l'utilizzo guardate qui come l'ha serigrafato qua com'è lavorato insomma e l'utilizzo diciamo così con utilizzo con il suo bracciale è qualcosa diciamo così di molto bello cioè a me questo orologio qui piace anche con il bracciale proprio perché è più stretto questo qua secondo me con il bracciale è ancora più brutto cioè io ho visto i tartal con il bracciale non li ho mai potuti non li ho mai potuti vedere ecco perché perché è troppo grande come li vedo troppo grandi come li vedo cioè a quel punto lì diventa un orologio veramente importante quasi non dico importabile ma veramente un cazzotto ecco diciamo così un tartal con cinturino in gomma o con un nato è sicuramente qualcosa di più bello perché scompare ecco diciamo così scompaiono i 22 mm ora io colgo anche l'occasione insomma visto che che ce l'ho per farvi vedere gli orologi senza appunto senza il nato così insomma c'è la possibilità anche di vederli ecco questi sono i due orologi che sono insomma molto simili sono qualcosa veramente di bello secondo me ve li faccio vedere questa parte ecco nella parte diciamo posteriore sono veramente simili anche lateralmente sono molto simili chiaramente insomma questa la cassa del villard insomma a me mi sembra un po più ecco diciamo così più lavorata mi sembra un po più come è un po più dinamica ecco no questa qua è un po più se volete conservativa poi naturalmente i gusti sono gusti eh però questa mi sembra insomma ancora più emblematica caratteristica mi sembra ancora più diciamo così qualcosa che ecco richiama diciamo così un design che secondo me è ancora più deciso ancora più importante ecco diciamo così del del secco perché dei dei sub secco perché il primo tartarugone ecco però resta insomma il fatto che comunque per insomma chi ha a disposizione 400 euro e non ha mille euro se uno prende questo secco tartal king cioè compra secondo me un un orologio terrificante è questo secondo me è un orologio terrificante considerato diciamo così le caratteristiche e la qualità costruttiva ecco diciamo così dell'orologio ok io spero che questo video vi sia piaciuto se vi è piaciuto come sempre mettete un like se lo ritenete opportuno iscrivetevi al canale noi ci vediamo alla prossima puntata ciao a tutti